Cazzo, 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 cazzo Ho il cazzo duro Musica Musica Non può essere che non trovo mai le cose giuste qua Quale levo tutto perché mi serve l'aspetto Il drop da uno Se trovo il drop da uno, bene, se non trovo il drop da un Ok, ce l'abbiamo trovato Ok, c'abbiamo pure il drop da due Troppe da uno Metto giù Ovvio Non è che posso giocare diversamente Nel senso Questa è la mossa base Nel senso Non posso fare nient'altro Cazzo è Va bene Poi Qua posso decidere Se fare la spell da uno Sopra il minion mio Ma non penso che sia La cosa più adatta E faccio L'adattamento Che mi deve dare Qualcosa di buono Oh Più le spore Vai Più le spore Vado in testa Ok Dai 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 Non è male Turno dopo hero power Ci abbiamo la spell da uno Ci abbiamo il lince Con l'assalto Qua come si vince il game Qua il game si vince E non si vince Ma il game non si vince Grazie mille E forse è meglio Che schifo qua Sennò qua me bannano Eh Sì 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 È una donna che parla È una donna che Che sta un po' Diciamo Questa qua raga È una donna Che c'ha un po' Un po' De voglia Ecco C'ha un po' De voglia Strane Qualche consiglio Per rimorchiare Vuoi X Defire 98 Volete qualche consiglio Per rimorchiare Che ve posso dire Per rimorchiare Ragazzi Non è una cosa Che dici Sì ok No Non esiste un consiglio Nel senso O rimorchiare O rimorchiare O non rimorchiare Allora fatemi un attimo Contare qua 448 da qua 513 No non è l'ital Però io questi due Li devo rimuovere In qualche modo Vado su in testa ragazzi Ha già fatto una spedda 1 L'opponent Ha già fatto una spedda 1 Deve trovare un modo Per curarsi Non è proprio scontatissimo Io preferisco Mettere pressione in bordo Grazie mille Mobatv Italia 5 euro Bono Abbiamo vinto Faccia Quanti di voi Avrebbero fatto La spedda 3 Che evocavano i lupi E sarebbero andati Tutti faccia Quanti di voi Avrebbero fatto Quella mossa lì Grazie mille 50 euro Lo scarso Un bacio enorme Va bene Dai andiamo su fortnite Dai Ok almeno questa Non me la rimuove Poi il tono dopo Ma che cazzo Che palle questo Ok l'opponent Ha già fatto tutto Ragazzi Ha già fatto E fa E porco però Ma porca la mal Dai però Ma io non capisco Guarda Ma io non capisco Non riesco a Proprio a capire Come fa Come fanno queste persone A vincere questi game Cioè io non lo so Non capisco Non capisco Non capisco Non mi capacito Di questa cosa Non riesco a capire Come cazzo Fanno Cioè doppia il fire Allora ho detto Vabbè dai Il fire è già la tirata C'ha 20 carte nel deck Ancora Ma doppia il fire Ok non ci gioco Indorno a doppia il fire Qua vado in destra Perché Devo trovare l'Ital Il turno dopo 4 danni Ce l'ho Il turno dopo 4 danni C'ho 4 danni Il turno dopo C'ho Che cazzo Però dai 4 danni Ci faccio un cazzo S-U-S-A Ok ha già fatto Doppia il fire Doppia il fire Doppia spetta 4 Non c'è niente Solo Due stinnello Dai 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 Forse Lidl Dai 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 L'idea il porco Ma che cazzo è Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info